Noi abbiamo avuto un'idea un po' scellerata a quel che vedo, nel senso che potevamo riservarci una vita tranquilla di ordinaria amministrazione. Essendosi aperta l'opportunità di fare le universiadi in Italia, ci siamo candidati investendo decine di milioni di euro per due ragioni semplici. La prima perché le universiadi sono una grande occasione di sviluppo dell'economia turistica, di promozione dell'immagine di Napoli, della Campania. Secondo perché potevamo far crescere con le universiadi una rete di impianti sportivi nei territori, nei quartieri, che sono uno degli elementi essenziali per l'aggregazione giovanile. Ora è evidente che se ci impegniamo in questa sfida dobbiamo correre e dobbiamo calcolare non i mesi ma i minuti perché il 2019 è dietro l'angolo. Dunque mi auguro che almeno in calcio d'angolo con la legge di stabilità si approvi una normativa speciale per le universiadi, altrimenti diventa concretamente impossibile rispettare i tempi. Quindi noi puntiamo ad avere il modello Expo. L'autorità anticorruzione ha già elaborato una ipotesi legislativa assolutamente condivisibile che ci fa risparmiare la metà del tempo. Se sarà così continueremo nella sfida, se non sarà così i soldi che abbiamo destinato per le universiadi li manterremo ma per farci tutti i nostri impianti sportivi nella regione Campania. La diatriba dialettica tra il ministro dello Sporlotti ed il ministro dell'interno Minniti ha rallentato la procedura relativa al finanziamento per la copertura di una parte dei costi previsti per le universiadi. C'è un decreto legge che prevede un impegno di spesa ma lo stesso necessita di una legge finanziaria ad hoc. C'è un problema tecnico ma non certo la volontà del governo di tirarsi indietro rispetto all'organizzazione dell'evento. Ha puntualizzato anche l'avvocato Lorenzo Lentini, presidente nazionale del Cusi, che si è prodigato per far sì che l'Italia ospitasse questo prestigioso evento internazionale. Nei giorni scorsi il presidente del CONI in Malagò era stato chiaro. Occorre un commissario di governo per accelerare le procedure. Siamo in ritardo, aveva detto il numero uno dello sport italiano. Ora ecco Vincenzo De Luca, il governatore della Campania è stato categorico. Intervenuto alla convention di Confindustria Salerno, il presidente del Consiglio regionale ha parlato delle opportunità che questa manifestazione garantirebbe al territorio che coinvolgerebbe, lo ricordiamo, anche la provincia di Salerno.